Marco Gaeta, attaccante bianco-verde classe 92, sicuramente oggi l'umore è molto più alto dopo la partita contro il Porto Sant'Elpidio in cui sei andato anche in rete. Certo, per un attaccante fondamentale segnare è sempre molto importante, ogni volta che riesco a segnare sono molto contento sia per me che per la squadra, soprattutto se il gol è finalizzato ai tre punti. Parlando proprio di gol, attualmente hai segnato cinque reti, Dos Santos capocannoniere ha segnato nove reti, Miri a diventare capocannoniere? È una cosa che mi farebbe piacere, però penso più a me stesso e alla mia squadra piuttosto che a guardare gli altri, visto che non posso determinare il loro risultato ma solo il mio. Quanto è stata importante questa vittoria contro il Porto Sant'Elpidio, la prima fuori casa? Certo, tre punti importantissimi perché eravamo a zero, fuori casa non avevamo ancora fatto punti ed era molto importante sbloccarci. Abbiamo incontrato una squadra molto buona che giocava un buon calcio e occupava mi sembra la settima posizione in classifica, quindi sono tre punti veramente importanti. Dobbiamo cercare di dare continuità anche adesso domenica con il Montegiorgio e andare avanti così. E infatti domenica affronterete qui tra le mura amiche dei Marzi il Montegiorgio terzo in classifica che in 11 giornate ha totalizzato sei vittorie e solamente tre sconfitte. Che gara vedi? Sinceramente non conosco benissimo il Montegiorgio, avremo modo di informarci, prepararci, però è meglio concentrarci sul nostro percorso, su di noi e migliorare noi stessi, che è la cosa determinante. Ringraziamo Marco Gaeta.